Bella a tutti ragazzi, sono FedaK47, siamo qui tornati su GTA V con una top 3 glitch, o 3 glitch, chiamateli come pare. Siamo in questa parte di mappa dove troviamo il primo glitch, siamo al di sopra di un tetto quindi vi servirà un elicottero e poi ci dovremmo buttare lì dentro, in quel posto dove ci sono i due, esatto, più o meno voi ce sto provando, no non è che ce vi è tutto subito così. Riproviamo, no, uguale, riproviamo un'altra volta con un po' più di rincorsa, esatto, ci siamo riusciti. Come vedete siamo al di sotto di questo palazzo, ci servirà come vi ho detto l'elicottero per arrivare qui sopra e la cosa figa è che è come se questo palazzo in realtà sia vuoto perché possiamo sparare da tutte le parti quindi è molto comodo se ci troviamo da queste parti e abbiamo qualche aggressore o qualcosa o qualcuno e c'è la possibilità di usare questo glitch, ne terrò sicuramente conto per quando passo da queste parti. Passiamo al secondo glitch, il secondo glitch, scusate se avete sentito qualche rumore ma un raffreddore si trova in questa parte di mappa, bloccate il video per vedere dov'è, è una sorta di parcheggio. Dovremmo metterci in questo modo con una macchina abbastanza bassa, ma penso vada bene anche per le macchine alte e qui a questo lato diciamo premere quadrato e scavalcare. Dopo essere scavalcati entreremo praticamente in questo, come posso descriverlo, questo sopra al parcheggio, dentro il palazzo. Infatti ci sono alcuni spazi dove noi potremmo sparare ma sotto di noi no perché c'è il pavimento e ai lati dobbiamo vedere dove c'è la possibilità, però è comunque un nuovo glitch che ho scoperto da pochissimo e volevo portarvelo. Principalmente questo, poi possiamo anche salire da quest'altra parte, qui sotto, purtroppo sotto il pavimento i colpi non passano io pensavo di sì ma invece no, possiamo scavalcare qui a destra e salire al di sopra però più di tanto questo glitch è giusto per provarlo, per trovare quei problemi che ha GTA però comunque abbastanza carino come glitch se sei in prima persona. Ora andiamo al terzo ed ultimo glitch che è quello che sarà sull'immagine di copertina perché è come entrare all'interno del palazzo dell'FBI. Molto figo. Eccolo il terzo glitch, siamo con Fabrone che ci ha accompagnato un'altra volta dovremmo avere un elicottero e metterci precisamente in questa parte qua è un amico che ci tirerà fuori, qui sta il palazzo dell'FBI come vi ho detto, tanto con l'elicottero lo vedete più o meno dove sta questo è un palazzo che è enorme io ora diciamo per tempo, per velocizzare la cosa non mi sono fermato a vedere tutto ma fidatevi che questo è un glitch che va fatto perché è bello vedere tutto il palazzo perché magari durante la storia non si ha tempo perché qui bisogna correre però GTA Online ti dà la possibilità grazie a questi glitch di entrare e vedere un po' com'è questo palazzo come vedete qui è tutta la parte distrutta dell'FBI se ricordate sulla storia con tutte queste esplosioni e fuoco da questa parte non ci potremo buttare però da una parte che sarà più avanti sì e usciremo proprio al di fuori del palazzo l'unica cosa negativa, guardate le macchine quanto so brutte dall'alto l'unica cosa negativa è il fatto secondo me che ti puoi buttare di fuori ma non puoi entrare se c'è un buco direi fallo sfruttare sarebbe figo da vedere se si può entrare da quel buco perché non ci ho ancora provato però sarebbe da testare continuiamo per tutta questa strada e arriviamo praticamente superando centinaia di migliaia di porte a quella che è praticamente la parte finale dopo moltissime rampe di scale che è questa qui dove noi potremmo buttarci e diciamo uscirne fuori comunque questo è il video spero che vi sia piaciuto io sono FedaK47, vi ricordo di lasciare un like e un commento iscrivervi al canale se vi piacciono questi video e noi ci vediamo al prossimo video Bella!